Buongiorno a tutti amici e amiche e benvenuti in questo nuovo video Io sono Antinisca e siamo in un nuovo episodio di Life is Strange Sigla! Eccoci qui sulla nostra pagina Xbox e Life is Strange Già in prima posizione Siamo pronti Via! Ci siamo Dai Facciamo le persone serie I have a little time before Mr. Jefferson's glass So I can do some wandering Ah! Eh, Rance, ti hai indietro tantissimo No, devo andare ancora ad aiutare Warren Andiamo velocissimo Ok, eccoci, eravamo qua Ero indecisa se dire tutto al prof Jefferson oppure no Io vorrei dirglielo perché comunque mi sembra una persona fidata, brava e che non va a spifferare in giro le cose Quindi vorrei dirglielo Mi butto Che stronzo! Listen, should I? Non so Listen, I do have a class I have to teach, I have to go Non voglio sentire la telefonata Ok, I'll do that Oh, I know, that makes sense Sì, ma non dice niente Sì, ma non dice niente Perché sta parlando? Ok Ok Mhm non può fare dei nomi forse se non entro in classe se non attacca vedi, ci sono le stesse cose, devo entrare in classe non sono le stesse qui viene il misterioso Max trattato come una piccola come tutti gli altri preciosi artisti qui tu mi è davvero finito Miaow! Travi le cuore! Mi piace vedere le ragazze combattere! Certo. Posso sentire a mia tavola ora? Max pensava che saremmo i ragazzi! F***ing ha ha! Ascoli! È Kate! Oddio! Beh adesso cosa facciamo? Il professore non sta facendo le azioni! Warren! Aspettate devo andare a tirare fuori il pane sennò non si scongela per pranzo! Ok ci siamo e riprendiamo! Ok ci siamo e riprendiamo! Maybe I'm realer? I see all the usual suspects here No! So Balla è il reso! Certo! Certo! è in classe, non si è in classe non è che c'è no è che c'è si mi devo subire tutto la sua lezioni oddio pensavo di subirmi un'ora di lezione ah chi dice che si vuole buttare no no andiamo da Kate c'è un modo per entrare non posso entrare ma io voglio andare da Kate dai Max non è un momento di stare qui adesso devo stare male oddio si è tipo fermato il tempo dai Max si ma non si vede niente non posso passare perché sono gli uccelli ma perché cammina così piano ma ti muovi sì è un momento di fare Oh, yeah. le cose miglioreranno tu conti non solo per me oddio se sbaglio questa si butta sei mia amica sono qui per te tutte e due in realtà per i devo farla sentire meglio sei mia amica sta raccogliendo prove non ero sicura avevo bisogno sto raccogliendo prove ti ho detto che le sto raccogliendo quindi vieni giù dai sì forte esistono miliardi di video tutti dimenticheranno tutti dimenticheranno tua madre il tuo padre i tuoi fratelli tutti tu mi raccogliendo mi raccogliendo mi raccogliendo la più piccola quale è quale è che è Lynn che è solo 10 che ha il migliorno che ha il migliorno mi piace che non vedo la triste e se il proverbio 21 Matteo 11 oddio beh andiamo con la religione ma io non credo che ho detto uno dei miei passaggiaggi mi sono scusate scusate cosa stai parlando hai scusate me di parlare in class Sì Diamogli una punizione Sì 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 Oddio Nathan l'ha drogata Jefferson l'ha fatta piangere David l'ha minacciata Gesù Santissimo No raga Sempre queste scelte devo fare Non ci posso credere Davvero ho super bisogno di voi Commentate qua sotto Se il video vi è piaciuto Con la risposta che vorreste che io dia Mi raccomando Seguitemi sui miei social Lasciate un like Condividete Seguitemi sul canale Se ancora non l'avete fatto Io vi mando un grosso bacio E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao